Sindaco, l'amministrazione comunale di Pescara crede molto nel recupero della Fontana di Spalletti adiacente il Tribunale. Oggi presentate questo progetto, un progetto fortemente voluto anche da lei personalmente. Sì, oggi è un bel giorno perché c'è questo incontro con gli attori che vogliono risanare la Fontana di Spalletti che è sicuramente un'opera d'arte che è in questa città e dà delle caratteristiche particolari e ci permette anche di ricordare un artista come Ettore Spalletti che è di livello internazionale ma che ha sempre tenuto al nostro territorio, non ha mai staccato le sue radici da Pescara e dall'Abruzzo e oggi noi glielo dobbiamo questo recupero della sua Fontana, un'opera di grandissimo pregio che si trova oltretutto in una zona di grande qualità urbanistica perché fa parte della cittadella della giustizia, del Tribunale e anche esso un'opera artistica di livello importante dal punto di vista qualitativo. Oggi abbiamo una serie di soggetti che vanno dal Presidente del Tribunale al Presidente della Fondazione Pescara Abruzzo ad alcuni imprenditori importanti che vogliono partecipare insieme al Comune al risanamento e alla riqualificazione di quell'opera al recupero complessivo e presentiamo alla stampa questo progetto proprio perché in tempi brevi vorremmo far tornare quell'opera ai fastidi quando è stata inaugurata come meraviglia della nostra città e come opera di livello artistico internazionale. Quali sono i costi per l'ente? Allora il costo in generale è di circa 200 mila euro, il Comune partecipa con una somma per ora di circa 30 mila euro e così come la Fondazione Pescara Abruzzo, alcuni imprenditori e stiamo aspettando anche altri mecenati che vogliano partecipare per fare in modo che quest'opera possa essere risanata. Il Comune oltretutto partecipa anche dal punto di vista della logistica e degli aspetti tecnici per il suo risanamento.